Buonasera, sono Sebastien Alnò e mi ritengo un combattente, sì, un uomo tenace che ama prendere le cose di perto, ahimè, questo è il mio carattere, e lottare per cercare di superare i propri ostacoli e raggiungere i propri obiettivi. Proprio per questo pratico come sport kickboxing, muay thai e anche tanta palestra, e infatti penso di essere un ragazzo sportivo. Io non mi ritengo però solo così, mi definisco anche un instancabile sognatore idealista, spesso mi sento come il classico bambino che esce dal cinema dopo aver visto un film di supereroi e vuol fare qualcosa di buono, sogna di fare qualcosa di bene per gli altri, che secondo me è quello che dovrebbe auspicare ogni artista. Proprio per questo, tra l'altro, penso di essere un ragazzo stada nerd riguardo ai supereroi Marvel e DC Comics. Ovviamente sono un attore, vengo da Milano, ma vivo a Roma da circa 5 anni. Sono diplomato presso l'Accademia del Teatro Stabile del Veneto, ho esperienze teatrali, tra cui l'ultima, la più recente, con Marco Tullio Giordana alla regia e con Luigi Locascio, uno spettacolo su Pasolini in una tournea all'Alfa Milano, a Venezia e a Via Vili Padova. Non ho esperienze però in teatro solo come attore, ma anche come performe, ho fatto diversi spettacoli di teatro danza al Franco Parenti di Milano e ho esperienze anche in camera, tra videoclip, cortometraggi e piccoli ruoli in fiction, tra cui medi interi con la regia di Luca Lucini e Agobanini. Ho lavorato anche in passato come modello. Le mie special skills sono il combattimento scenico, il teatro danza e essendo di madrelingua francese parlo e recito anche in francese. I diaretti invece sono il milanese e anche un po' di Veneto. Profilo destro. Profilo sinistro. Mario. Bene, se un giorno avrete bisogno di un combattente, sognatore milanese, un po' francese, che parla un po' di Veneto, non esitate a contattarmi. Grazie e buon lavoro.